Perché comunque in televisione lo spettatore vede, sa di chi sta parlando, il radio ha bisogno invece che glielo racconti tu, che glielo dica tu, cioè che gli dica tu, ripeto dove è il pallone, il pallone va seguito non minuto per minuto, attimo per attimo. Io devo capire chi attacca da dove a dove, devo capire dove è la palla, se al vertice sinistro è l'area di rigore, se è il vertice opposto, se è centralmente posizionata rispetto ai pari della porta avversaria, se è i 40 metri, i 25 al limite, può andare al tiro in porta, si libera di un avversario, poi però si coordina per il sinistro, poi decide di aprire, dar respiro alla manovra, immagini e ti disegni qualcosa nella testa. Io, Francesco, ho visto un video di te a casa tua, a Tropea, in Calabria, e piazza a gremita, maxischermo, casse a tutto volume, c'è la tua voce, e ti fanno riascoltare il monologo post-europeo. Io ho notato che tu hai la mascherina in quel momento, nei tuoi occhi, cioè sì emozione, sì orgoglio, ma anche una certa timidezza, sbaglio? Ma perché si fa sempre fatica poi, no, a vederti spiattellato lì con tanta gente, obiettivamente uno che racconta partire di pallone non è che può essere così abituato alla notorietà, una cosa è la radio, una cosa è la televisione, la telecamera è una roba che in qualche modo ti destabilizza, e quindi sì, mi sembrava anche un po' impossibile, nel senso che c'erano poi delle persone quel giorno molto, molto più importanti, che fanno delle cose molto più importanti della mia, anche se il ragionamento dal punto di vista generale potrebbe essere equivocato, però sono personaggi che, non so, erano con me, salvavano la vita dei propri simili grandi chirurghi, c'è un signore che praticamente sta combattendo, c'era un signore che sta combattendo contro le organizzazioni criminali, eppure mi chiedevano i selfie, mi chiedevano la roba, cioè, e io dicevo, ma che cos'è sta cosa qui, che potere ha il pallone? Per la verità, io una cosa importante la faccio, ora, al di là dell'ambito specifico, io credo che quando tutti noi, fino a quando tutti noi che facciamo questo mestiere, si avrà la possibilità di raccontare delle cose, e di trasferirle a chi ci ascolta, a chi ci legge, a chi ci vede, anche se sono delle merite stupidaggini, fin quando avremo la possibilità di farlo, questo sarà un paese libero, e quando finirà questa possibilità, quando non ci sarà questa possibilità più, se dovessi accadere, dovremmo cominciare a preoccuparci. Tu in quel monologo famosissimo, ormai su YouTube ha spopolato e lo sai bene, dici, e consentitelo, gentili ascoltatori, al vostro cronista, che adesso con questo entusiasmo di laghi, nel Borgo dei Borghi, nella meravigliosa Tropea, quanto c'è di Tropea in te? Sì, c'è tutto, nel senso che è veramente il luogo della mia anima, poi io non sono nato a Tropea, io sono nato a Cosenza, e ho vissuto molto più a Cosenza che non a Tropea, Tropea è il posto, il luogo della famiglia di mio padre, è un posto molto particolare, perché Tropea è storicamente un posto particolare, sola sub fidelità Tere Manzit, unica rimasta fedele ai Borboni, Tropea scappano le famiglie nobili, una volta che insomma i francesi provano ad occupare il nostro paese, e sono personaggi che non condividono, o perlomeno non si mischiano col popolo, quindi c'è dei rapporti di consanguinità, anche nella procreazione, che fanno un po' di persone strane, è un paese molto particolare, molto strano, però è di una bellezza astruggente, io penso che sia veramente uno dei posti più belli del mondo, ma oggettivamente, non parlo per appartenenza o per campanile, e lì sono nate le amicizie, sono nate le frequentazioni, lì praticamente mi sono formato con i miei errori, le mie stupidaggini, ma anche i miei affetti più cari e più importanti, ed è ovvio che comunque la Calabria in generale per me sia il punto di riferimento, dove tutto è nato e dove tutto spero finirà, non subito, però insomma tra un po' di tempo sì. Hai citato i tuoi genitori, la loro storia d'amore è stata da film molto particolare, hanno avuto sempre il vento contro, però alla fine hanno vinto. Sì, sì, io credo che la più grande vittoria è per una coppia, specie adesso, magari non esattamente nel periodo in cui hanno vissuto i miei genitori, che sono morti dieci anni fa sostanzialmente, uno a poca distanza dall'altra, insomma, sì, abbastanza contrastata come cosa, perché mia mamma veniva da una famiglia importante, Cosentina, molto in vista, mio papà invece era figlio di un impiegato delle Ferrovie di Tropea, nove fratelli, il primo fucilato dei fascisti, a Cuneo, c'è ancora la Lapide, Rocco Repice, Partigiano, sì, Partigiano, gruppo Giustizia e Libertà, non delle Brigate Garibaldi, ma di Giustizia e Libertà, e quindi una famiglia, insomma, così, molto particolare, sai, nove figli, non è facile, otto maschi e una femmina, non c'è più nessuno di loro, però, l'innamoramento tra i due è fulmineo, molte ritrosie da parte della famiglia di mia madre, però poi, tra gli altri bassi, tra tutte le cose che sono successe nel corso della loro vita, sono rimasti insieme, e mia madre, in punto di morte, disse a mio padre, ma tu mi vuoi bene, mi hai voluto bene, e lui, tu sei stata sempre tu, per cui, insomma, sì, una vita, diciamo, molto complicata, però alla fine, alla fine han vinto, hai ragione, han vinto, così. Il tuo padre, Salvatore, imprenditore, voi avete girato tanto, nella tua adolescenza, infanzia, sì, perché la Calabria, perché Roma, perché Lecco, ti ho detto, poi il ritorno in Calabria, le imprese in Calabria, quindi, fare un'azienda, che faceva delle scarpe artigianali, artigianali, però molto importanti, addirittura per il Presidente degli Stati Uniti, per Clinton. Dalla Calabria a Clinton? Sì, insomma, sì, girato tanto, è fatto tante esperienze, è visto tante storie, nel corso di una vita, almeno per quello che mi riguarda, a quel tempo ancora breve, ho visto tante cose, questo credo che mi abbia aiutato poi tanto, nella professione, nel lavoro. Quindi vedere il mondo, in quel caso l'Italia, da diversi punti di vista? Sì, da diversi punti di vista, perché abituato a Roma, è un quartiere comunque residenziale, arrivare all'Ecco è stato, quindi in Lombardia, nell'operosissima Lombardia, dopo la terza media, andare al liceo classico, che siamo a metà degli anni 70, non era una cosa così scontata, perché si preferivano gli istituti professionali, cioè l'accesso immediato al mondo del lavoro, subito dopo la scuola, per cui ero abbastanza così particolare, ed era difficile integrarsi al tempo, c'erano dei problemini, di un calabrese vissuto a Roma, per un calabrese vissuto a Roma, c'erano insomma un po' di problemi, anche se diciamo, l'estrazione sociale non era sicuramente proletaria, ma era di una borghesia medio alta, per cui nonostante questo, c'erano insomma dei problemini, ci sono stati dei problemini, e io lo ricordo, devo dire con una certa, anche con una certa angoscia, perché il mio compagno di banco, in terza media, Domenico Gualtieri, Domenico Gualtieri, un ragazzino come me, che va il pomeriggio a giocare al lago, e non sapeva nuotare, cade e muore, e io ho vissuto per anni con questa roba qui, caspita, se ci fossi stato, eravamo sempre insieme, se ci fossi stato, non sarebbe morto, perché nessuno, compreso il cugino Roberto, non sapeva nuotare, per cui mi sono portato dietro questa storia, per tantissimo tempo, e poi al liceo, insomma notare il distacco, dei compagni di scuola, capire che insomma, venivo da un'altra realtà, da un'altra situazione, non è stato semplice, ma alla fine, alla fine però mi ha aiutato il calcio, ci ha salvato il calcio, sì sì, mi ha aiutato il GS Aurora Lecco, dove giocavo al pallone, e sai in uno spogliatoio, si cementano delle amicizie, si cementano dei rapporti, che poi ti aiutano anche nella vita, in uno spogliatoio trovi il prepotente, trovi quello più debole, quello più forte, quello simpatico, quello antipatico, e cominci a relazionarti, sì è una metafora della vita, a prendere le misure, lì impari, impari tanto, il collegio invece che ruolo ha avuto nel tuo carattere? Mamma mia, il collegio ai primi tempi è stato traumatico, non immaginarti una roba di questi con le divise tutti uguali, pieno centro storico di Cosenza, un posto meraviglioso, un posto di una bellezza struggente, e dai preti, collegio arcivescovile, il liceo classico, al liceo classico andavano, il liceo classico era frequentato, dai, diciamo, da coloro i quali andavano solo in collegio, o da coloro i quali stavano in seminario, che era lo stesso palazzo, perché poi il palazzo arcivescovile, dove c'è il vescovo, e c'erano i seminaristi che in realtà erano dei ragazzi che non avevano necessariamente la vocazione religiosa, ma andavano lì a studiare perché le loro famiglie non potevano mantenerli agli studi, nei vari paesi della Calabria, o sperduti dell'asila, in posti dove è anche difficile arrivare, era all'epoca difficile arrivare, e quindi, e quindi non un posto, sai, una cameretta così, un bagno comune a tutti, l'acqua quasi mai calda, anche d'inverno, una camerata enorme, io avevo una stanza a mia a parte, ma per caso, ma molto piccola, molto buia, molto scura, non è stato facile, però, caspita, insomma. Chi ha formato? Eh beh sì, impari a vivere di te stesso, impari a cercare le risorse dentro di te, a non chiedere aiuto a nessuno, e quindi sì, molto formativa come esperienza, cinque anni, non uno, cinque anni, durante il liceo, insomma, primi due anni a dormirci, poi piano piano, quando i miei si sono ritrasferiti in Calabria, il distacco, io vivevo con mia nonna al fine settimana, lì a Cosenza, però, è stata un'esperienza molto molto formativa. E a Cuba come ci sei finito? A Cuba ci sono finito perché, in vacanza, e poi ci sono rimasto per un po', perché mi piaceva tanto, insomma, mi piaceva tantissimo l'isola, e poi io ho la malattia del mare, e ho la malattia del mare, eh? L'avevo capito. Eh, e lì il mare non è bruttissimo, e anche se io sono abituato a un mare meraviglioso, e però, insomma, pescavo con una cooperativa di pescatori a Matanzas, e poi la pesca è l'altra mia malattia totale, e quindi stavo bene, stavo molto bene, sono periodi spensierati, poi è chiaro che bisogna diventare uomo, insomma, bisogna crescere, ecco. Però quanto ci sei stato? Tanti mesi? Beh, sono stato sette, otto mesi, quasi nove, sì, sì. E in quei mesi che cosa hai capito della rivoluzione? ho capito, ho capito che c'era un sentimento di partenza, ho capito che comunque tutte le cose che nascono spontaneamente, non vengono fomentate dall'esterno, hanno una qualche ragione di esistere, ho capito però che, difficilmente, difficilmente, si riesce a stare al passo col mondo che va avanti, e quindi i cambiamenti sono necessari sempre. Il mondo è il vicino. Il mondo è il vicino, è il vicino che comanda, perché questa è la verità, e bisogna andare avanti, bisogna andare avanti, bisogna tenersi al passo, esistono delle vie intermedie, insomma, esistono dei modi per poter conciliare quelle che sono le aspettative di un essere umano, e quelle che sono invece le aspettative, o comunque quelle che sono le mire filosofiche, veramente le necessità di un uomo. Esistono delle vie di mezzo per poter conciliare le due cose, non credo che i sistemi economici, da soli, possano riuscire a soddisfarli, e quindi bisogna creare, ripeto, un compromesso. Ed è quello che faticosamente, da quelle parti, stanno cercando di raggiungere, ma sarà un percorso ancora molto lungo. Hai visto il documentario Cuba and the cameraman, su Netflix? Sì. Di John Albert, consigliamola a chi ci sta guardando. Esatto. È una fotografia lunga, 45 anni. È una fotografia lunga, 45 anni, io immagino, immagino veramente, le grandi, non c'erano, non potevo esserci, però sai, all'epoca di Fulgenzio Battista, c'era un progetto, il progetto era quello di, lo spiega bene il padrino, il film con Alpasino, la parte 3 o la parte 2, adesso non mi ricordo, ma credo la seconda parte. Quando si cerca di portare, quando la mafia italiana americana cerca di spostare i propri affari per renderli legali in quell'isola amica, è solo che poi c'è sempre qualcuno che si mette di traverso. Se poi quel qualcuno è nato in Argentina, fa il medico e va in giro per il mondo a guerriere la gente gratis, allora sono problemi. Se quella persona, Ernesto Che Guevara, non fosse mai nato o non avesse mai acceso la moto, il tuo modo di pensare oggi, quanto sarebbe diverso? È stato un punto di riferimento per quasi tutta la mia generazione. È stato tutto ciò che noi avremmo voluto essere, ma al di là dell'ideologia, e non siamo riusciti ad esserlo, perché quella è l'utopia fatta persona. Lui è l'utopia fatta persona. Lui è tutto ciò che non è possibile fare e lui cerca di farlo. Non è possibile essere, ma lui cerca di esserlo. È chiaro che per un ragazzo rappresenta un fascino incredibile, no? Dici, guarda questo, parte con sta motocicletta da sola a guerrire le persone, fa la rivoluzione, se ne va da solo in Bolivia, nella selva, cioè ma questo è veramente... come potevi non rimanere affascinato? Ma da qualsiasi parte si fosse, cioè sinistra, destra, cioè questo era veramente un qualcosa di... Sai, andare all'ONU, fare quel discorso, dire ai sovietici che stavano tradendo tutto quello in cui si credeva, non è semplice. E lui l'ha fatto, per cui credo che sia stato una persona fondamentale per la formazione di tutti i ragazzi della mia generazione di allora. E come sei finito a scrivere per la discussione, il popolo, cioè i giornali della democrazia cristiana? Esatto. Cioè un marxista, la DC è il titolo di un film di spionaggio? Sì, io non ero marxista allora e non ero democristiano allora, ma... perché tu pensi di far delle cose e quindi pensi magari durante un dibattito politico di dire la tua con un esponente del Partito della Democrazia Cristiana sul palco e digli delle cose a proposito del divorzio, a proposito dell'aborto e quindi ingaggiare una specie di... tra virgolette, no? di confronto tra uno che ne sapeva molto più di me, Clemente Mastella, e un ragazzino che si alza e ha la spudolatezza e anche diciamo così la presunzione di voler dire qualcosa e... e forse quella roba lì ha... ha impressionato tant'è che poi venni... venni chiamato e gli dice ti vogliono vedere all'ufficio stampa di Piazza del Gesù io dicevo... quando mi chiamavo al telefono la prima risposta è stata la segreta dell'onorevole Mastella sì, io so Batman io ho chiuso il telefono in realtà poi andai insomma e iniziò tutta questa storia e... è così succede questo certo è il tuo approccio con il giornalismo approccio con il giornalismo quindi il contratto da praticante al pale ambivo e quindi poi la... la possibilità di andare a lavorare al quotidiano lì c'era una questione della democrazia cristiana da allora l'opposizione aveva il settimanale l'opposizione interna e la maggioranza interna aveva il quotidiano quando si ribaltò la questione quindi la sinistra democristiana per farla breve diventò maggioranza io fui chiamato ad andare al popolo e direttore politico del giornale era Sergio Mattarella con il quale io ho lavorato per due anni è stata una delle esperienze più fulgoranti della mia vita una persona che dirlo adesso è comodo insomma però io non ho mai conosciuto un uomo di una dirittura morale di una lucidità mentale come l'attuale presidente della repubblica attuale capo dello stato se dice no è no e non lo dice in maniera lo dice in maniera molto pacata alla sua maniera appunto e non c'è verso perché poi ha sempre ragione finisce che ha sempre ragione lui già all'epoca era così sì assolutamente assolutamente in maniera molto dolce molto educata molto pacata come lui che però ripetiamo è un uomo chiaro che dirlo adesso insomma è facile no però insomma io l'ho conosciuto e ci ho lavorato per quasi due anni e mamma mia se pensi all'autorevolezza oggi pensi a lui sì una specie di come dice Antonello Venditti in una canzone una montagna troppo alta da scalare è veramente personaggio di un altro livello di un'altra categoria perché da lì si 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 prospetta la possibilità di andare in Corona che il resto era una sostituzione al giornale radio e e appunto prima del il colpo è che vengo mandato da questo mio caporedattore caporedattrice dell'epoca della Marsoli alla redazione cronaca a seguire il processo a Germano Maccari che è uno dei carcerieri l'ingegnere Altobelli della prigione di Aldomoro quindi e e succede che che niente insomma che io riesco a strappargli due parole prima del che dovevano essere due parole in realtà mi dice in diretta al GR1 quello che succede insomma abbiamo preso Moro che è una roba abbastanza pesante e cioè perché lui era questo famigerato quarto uomo che mancava che mancava e soprattutto sai l'abbiamo messo nella cesta l'abbiamo portato dalla casa al garage anch'io quando mi diceva queste cose ero abbastanza perché poi la mia generazione da quella vicenda è stata segnata segnata perché noi eravamo ragazzini ma ma a scuola non si parlava d'altro in collegio da me in casa non si parlava d'altro hanno rapito Aldo Mora ma come è possibile ma come sono arrivati ad una cosa simile come è stato come sono stati capaci come si può realizzare un'impresa di questo tipo come possono essere così spietati ed era successo poi è chiaro che ci sono pensieri retropensieri teorie retroteorie che non sono in grado veramente di giudicare e non mi va nemmeno di giudicare perché lo considera anche una mancanza di rispetto per chi lì ha lasciato la vita e poi la storia farà il suo corso e magari tra 50 anni i nostri figli sapranno effettivamente cosa successe in quei drammatici giorni sì tu non potevi fare altro che fare il tuo lavoro e fare il cronista e quella volta l'hai fatto bene è andata bene poi sai tu fai questo lavoro è una questione pure di fortuna cioè ti trovi là metti il microfono arriva Ronaldo in Italia e la prima amica che vuole la gioca a Roma io chiamo Sandro Mazzola e ti supplico fammi fare una cosa con Ronaldo ti prego insomma alla fine io arrivo nello spogliatoio mentre lui fa la doccia lo aspetto fuori col tecnico il vecchio nagra col microfono ho detto oddio ci sono è fatta mamma mia questa è la prima volta che parla in Italia è venuto in Italia parla con me arriva Pascal Vicedomini che un tempo è un giornalista che si occupa di cinema di spettacolo che lavorava per una trasmissione a Rai 2 della quale adesso non ricordo nemmeno ma si occupava proprio di queste cose qua e arriva con questa telecamera non so come mi sbuca mentre esce Ronaldo e comincia a fargli queste domande io gli dice aspetta fammi fare l'intervista e fa allora mister 100 miliardi perché all'epoca c'era questa cosa spiglia si gira e se ne va con l'accappatoio io guardo questo collega e l'avrei potuto uccidre cioè dico ma tu ti rendi conto di quello che hai fatto ecco lì per esempio io sono stato molto sfortunato che avevo la possibilità di far parlare Ronaldo per primo e non ci riuscì per colpa di Pascal Vicedomini con sta telecamera che girava mister 100 miliardi come ci si sente questo qua se è girato e se è andato volevo morire volevo morire io ma volevo prima che mi accompagnasse lui insomma nell'aldilà però vabbè le cose andate così abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi augura un felice ascolto e ricorda ai colleghi l'ordine degli interventi poi piano piano sei entrato in quel santuario di tutto il calcio minuto per minuto io in questi giorni ho ripercorso la storia e ho chiesto anche ai miei genitori e a mia madre in particolare dei ricordi suoi tutto il calcio anche delle sensazioni e lei mi ha parlato proprio di sensazioni tattili cioè il peso della radio portatile la domenica pomeriggio che mio nonno portava ovunque e a volte toccava anche a lei e altra cosa mi ha detto guarda Giulio in quegli anni la radio ti inseguiva cioè tu uscivi magari per andare al centro giovanile uscivi di casa e le voci di Ciotti Ameri Provenzali Luzzi Ferretti rimbalzavano di radio in radio era pazzesca sta cosa io non me la so immaginare ammetto ora come tutti sanno io sono tifoso e sono tifoso della Roma ero in Calabria ero al cinema a vedere un film non ricordo bene un film di Dario Argento una cosa tipo Suspiria con una delle ragazze più belle della città e mi avevo portato l'auricolare per sentire il derby di che anni si parla? sto parlando di metà degli anni 70 70 di 70 fa gol giovannelli 2 a 1 ovviamente io salto perché non potevo dire di no alla sudeste perché era di una bellezza senza precedere in Arabia e avevo avuto la fortuna insomma di cadere non so per quale miracolo delle sue attenzioni e quindi non potevo non si poteva però allo stesso tempo c'era l'amore ancora più grande quello per la Roma e quindi chi mi ha salvato la radio l'auricolare in realtà mi ha salvato perché hanno cacciato Valcinia perché ho urlato hanno acceso le luci e mi ha detto guardi se ne deve andare ovviamente la signorina in questione non la vedi mai più tra l'altro se stiamo parlando di prima del 77 tu ti eri collegato al secondo tempo perché ancora non c'erano i primi tempi non c'erano i primi tempi dopo il 77 cambia tutto infatti giovannelli segna pochi minuti alla fine ecco perché si dava la linea agli inviati che erano sul campo Roberto Bortoluzzi prendeva la linea allo studio centrale e dopo lo spot pubblicitario si dava la linea agli inviati partendo dal campo principale quindi quello di Enrico Ameri poi Sandro poi Provenzali poi Ferretti che davano il risultato del primo tempo ti assicurano che erano momenti di panico cuore in gola sì panico totale panico totale tutto il calcio minuto per minuto gentili ascoltatori buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi ai microfoni Enrico Ameri Sandro Ciotti Mario Guerrini Claudio Ferretti Enzo Foglianese Ezio Luzzi primi tempi linea a Torino al comunale di Torino Juventus 4 Vicenza 0 a voi Varese a Varese Napoli 1 Varese 0 perché poi dovevi essere fortunato perché magari c'era un amico che andava allo stadio usciva ti chiamava col telefono a gettoni e ti diceva qualcosa però eravamo al buio totalmente al buio quindi quell'attimo lì quando Roberto Bortoluzzi per i risultati dei primi tempi allinea al campo centrale da San Siro Enrico Ameri Inter Mil erano delle cose che non si possono raccontare e stai veramente col cuore in gola i battiti accelerati e non sapevi di che morte dovevi morire per cui era una roba eri inattesa proprio del colpo ferale o dell'estasi e della gioia non c'era una strada a metà eri proprio in bilico tra il baratro e il paradiso ed è una roba che poi riforma anche quella nel corso degli anni però il concetto di sorpresa di replicare dell'emozione alla fine credo che la vita sia questa roba qua studiare le emozioni e impegnarsi per replicarle il concetto dello stupore è difficilissimo oggi ricrearlo è complicatissimo lì ogni domenica tu avevi Roma 1 Lazio 2 no è incredibile quella cosa guarda ti assicuro è una e non so è come ecco per renderla potabile a tutti immaginate la scena ormai voglio dire più volte rappresentata in cui il professore della materia è più ostica scorre il registro prima dell'interrogazione ognuno cerca come se nascondersi dietro un banco dietro il compagno sta nella fila avanti fosse in qualche modo utile a non fargli capire che tu insomma sei lì e quello invece guarda i nomi sul registro non gliene importa nulla di capire ecco si vive quella situazione lì ed è una situazione tremenda che non auguro a nessuno però ci ha tenuto incollati per anni però se ti posso dire il momento più bello che io vivo uno dei momenti più esaltanti della mia esistenza è quando sono in barca con i miei amici a metà strada tra le orie e la calabria a pescare e sotto c'ho la radio con le partite è una cosa che non si racconta ti fa godere no ma è una cosa pazzesca e a proposito di eventi mi racconti cosa successe nella stanza delle riunioni di Ezio Luzzi nel mondiale pre 98 sentire delle urla è sempre qualcosa che all'interno di una redazione ti interessa ti coinvolge e dici mamma mia che sta succedendo oltretutto diciamo che la mia redazione all'interno della mia redazione c'erano dei fenomeni radiofonici come Bruno Gentili come Giulio Delfino però diciamo così dei personaggi come Antonello Orlando dei personaggi a cui piaceva molto il casino erano proprio ci vivivano e ci sguazzavano per loro era voglio dire anche per me era un motivo per poi anzi andare ad attizzare perché era divertente quando succedono queste cose io ricordo ste urla questa riunione premondiale nella stanza del capoledattore Ezio Luzzi ma non immaginavo assolutamente immaginavo fosse successo qualcosa ma non immaginavo cosa non potevo mai immaginarlo fatto sta che esce Ezio Luzzi dalla stanza adesso lo dico letteralmente capisco che mi prende da che io sono seduto a far finta di scrivere delle notizie ma in realtà stavo cercando di sentire tutto oh è numero un pecoglioni che vuoi fare diocroniche però hai capito io guardo io scusa ma Luzzi ma che stai a dire ma che qual è il problema vieni con me al mondiale in Francia ma non devi farla diocroniche stai in redazione io guardo così eh grazie quindi ho capito che sostanzialmente lui aveva diciamo così esonerato dalla trasferta al mondiale di Francia un collega e avrebbe portato me e questo aveva scatenato appunto per cui fui guardato da tutti i figli di Buonadonna di cui prima è tutta colpa tua ecco sei arrivato se destabilizzi il gruppo l'ambiente le cose lo dicevano in maniera tra il serio e il faceto ma ovviamente era un modo per no perché lei era ancora più zizzania e la cosa mi divertiva molto e quindi iniziò così e andai al mondiale di Francia tra quel gruppo di lavoro hai citato Bruno Gentili che li chiama i cavalieri dell'etere ma per il Francesco ascoltatore Enrico Ameri e Sandro Ciotti cosa hanno rappresentato? allora Sandro Ciotti è stato un ex calciatore e di livello importante e capiva il gioco Enrico aveva la capacità narrativa e il ritmo che credo solo Riccardo Cucchi sia stato in grado di replicare la mitraglia e Sandro Ciotti aveva la capacità invece di inquadrare la partita e di fotografarla dopo dieci minuti e di farti capire com'era effettivamente come stavano le cose in campo cosa ereditata da Bruno meravigliosamente da Bruno Gentili anche lui calciatore ex calciatore e quindi uno che capiva il gioco per me sono stati una colonna sonora una colonna sonora sono stati una stanza chiusa angosciosa buia e quella voce che doveva darmi delle notizie quelle voci che dovevano in qualche modo placare la mia ansia o sprofondarmi nella più assoluta disperazione sportiva sono stati una colonna sonora sono stati veramente qualcosa di secondo me difficilmente replicabile io non credo che loro siano avvicinabili dal punto di vista proprio professionale giornalistico tecnico anche se qualcuno mi dice sai però loro non solo loro non c'erano le televisioni potevano dire quello che volevano non c'era nessuno che li controllava non c'erano guardate chi ne ha la possibilità io sono andato alle tec a ascoltarmi i 20 secondi di narrazione della sostituzione di Spadino Selvaggi in un derby Juventus Torino col Toro in vantaggio per 1 a 0 poi la Juve ovviamente rimonta e vince 2 a 1 e quei 20 25 secondi di racconto di Selvaggi che esce dal campo per andare in panchina lo sguardo con l'allenatore con la curva maratona di Sandro sono una cosa che non non c'è niente no no impossibile assolutamente impossibile hanno creato anche una sana rivalità che è epica no? da ascoltatore e ha detto ai lavori adesso che roba è stata io avendola un po' studiata è una delle cose che mi ha affascinato di più non si sopportavano molto questa è la verità scusa Ameri sono destinato a interromperti oggi si gioca ripetiamo il 22esimo del secondo tempo come si fa ad essere così coglioni come questo attenzione Ameri sto per cercare di te la linea e vi prego di tenere chiuso il microfono al termine dell'intervento grazie via Ameri avevano due stili di vita completamente diversi e non sono qui a giudicare nessuno ci mancherebbe altro che lo facessi Enrico Ameri è un tradizionalista un uomo con una famiglia dei figli delle idee ben precise dei principi solidi cattolico fervente ecco diciamo che Sandro non era esattamente questo per cui scapolone per cui insomma gli piaceva giocare a carte di notte non d'azzardo e giocava a scopone scientifico con le carte francesi a me è stato è capitato due volte di essere convocato a casa sua in piazza della libertà perché le coppie erano lui l'oste della trattoria dei cracchi quindi il padrone di quella trattoria vicino casa sotto casa dove andava a mangiare Bruno Martino un cantautore barese e poi se mancava un quarto lui andava a scegliere però era un onore venire convocato sì era un onore però ti posso dire era anche un tremore perché cioè tu arrivi là e se sbagliavi a giocare poi giocare a scopone con le carte francesi era una cosa che io impazzivo non capivo perché sto vezzo di giocare e tutta la notte e se sbagliavi uno spariglio ti buttava le carte in faccia ti umiliava te ne diceva di tutti i colori questo durante tutta la notte perché poi durante il giorno lui dormiva certo però ti chiamava che fai e che faccio e che gli dicevi arrivo Sandro cioè ma anche quando lo dovevi andare a prendere in aeroporto cioè non era però però ti ha insegnato tanto anche a livello proprio tecnico Sandro mamma mia mamma mia è una cosa mostruosa io ricordo quella giornata quel gr2 delle 12 e 30 come se fosse oggi ancora quando lui arrivava in redazione per lui era come se arrivasse Dio sostanzialmente in realtà lui veniva per giocare a carte con Walter Gorietti che era il segretario l'impiegato di redazione detto il pelato ma giocavano a carte a 10.000 lire quando andava bene a partita il problema è che Sandro per la verità anche Walter coltava il 48 ora per i non addetti i lavori della scopa il 48 ti consente nelle ultime due tre mani di conoscere le carte che ha in mano l'avversario sono dei calcoli aritmetici sulle prese e sugli sparigli appunto è un lavoro è una cosa abbastanza complicata poi peraltro non è facilista ci vuole che era memoria e quando lui arrivava lui arrivava fondamentalmente all'ultimo periodo per questo motivo noi io in particolare per me era e lo incrociai proprio mentre andava a fare un gr2 il giornale radio prevede da noi che finisce la parte generalista quindi la parte politica interna estera economia finanza spettacoli eccetera eccetera cronaca c'è la pubblicità e poi c'è la pagina sportiva e al contrario delle altre redazioni non c'è un conduttore che viene quindi dalla redazione della messa in onda quindi non da una tematica ma c'è il conduttore della pagina sportiva è un redattore della redazione sportiva che deve andare lì presentarsi e lanciare i servizi degli inviati quindi per non so faccio un esempio un turno di Coppa dei Campioni buona giornata Francesco Repici apriamo la pagina sportiva con il calcio ieri si sono giocate le partite del secondo turno della Champions League l'Inter ospite del Porto come è andata ce lo racconta il nostro inviato Riccardo Cucchi io avevo due servizi da lanciare esco col mio foglio buona giornata Francesco Repici apriamo la pagina sportiva e incrocio Sandro dove vai io Sandro vado a fare il GR2 delle 12 e 30 ah bravo bravo quanti minuti ti hanno dato guarda tre minuti quanti servizi devi lanciare due bene bene fammi vedere lui prende legge guarda io attentissimo lì proprio impietrito bravo bravo vai vai ora sono 20 metri più o meno dalla redazione sportiva e la messa in onda del GR2 al secondo piano della palazzina dove c'è il giornale radio quando si spegne la lucina dello studio significa che il conduttore della prima parte del giornale ha finito che c'è la pubblicità che tu devi entrare per appunto declamare la pagina sportiva si spegne la luce e io sento da 20 metri la voce inconfondibile di Sandro Ciotti che mi dice a Pischè vuoi fare la radiocronica di 90 minuti ma se te ne danno una che fai te la scrivi prima una revolverata mi avrebbe fatto meno male però ti ha toccato mamma mia quindi prendo sto foglio lo appallottolo con il tecnico dall'altra parte della console che mi guarda e dice tu sei scemo lo butto e dico adesso o mi licenziano o le cose vanno bene diciamo che sono stato fortunato sono stato fortunato e da lì hai cambiato il tuo approccio non ho mai più scritto nulla niente nemmeno i pezzi non scrivo più nulla io non vado in radio però nemmeno con la penna perché me lo deve dire lo stadio quello che devo raccontare io non si scrive niente è inutile statistiche numeri numeretti non hanno senso chi mi ascolta vuole sapere dove è il pallone vuole sapere di che colore sono le maglie delle squadre di che colore sono le sciarpe i vessilli vuole ascoltare i cori vuole sentire la partita vuole stare dentro lo stadio però portando a giocare al pallone il figlio portando la fidanzata fuori parlando con un amico con un fratello con la propria moglie facendo altre cose ma vuole stare dentro lo stadio contemporaneamente la radio è questa niente scritte niente cose preparate niente numeri statistiche non hanno senso mi hanno detto che in postazione commento non porti neanche la penna e dopo la fine della partita voi dovete fare un pezzo per il GR sì e a volte tu guardi il tecnico finita la partita gli fai vai il tecnico ti guarda come diciamo è perché è sempre per quella roba se non sei capace di fare un minuto abbraccio su una cosa che appena visto evidentemente il radioconista non lo puoi fare cioè no è appena fatto 90 minuti sì 90 minuti santo Dio qualcosa ti deve essere rimasto in testa per poter parlare per un minuto in italiano comprensibile e far sapere al fruttore del GR della mezzanotte che cosa è successo visto che la partita è finita più o meno le 11 meno qualcosa insomma un minutino lo puoi fare senza dover scrivere e perdere tempo anche perché se perdi tempo poi gli allenatori sono in flash e perdi le interviste e il pezzo dalla mattina dopo senza le voci ti chiama il caporeattore e ti dice scusa ma Pioli e Inzaghi me che mi importa del tuo parere e ti sbatte il telefono in faccia bisogna fare le cose in fretta il giornalismo è questo in fretta è bene il contrario di quanto diceva la scuola che fretta e bene non vanno mai insieme e invece qua bisogna farle in fretta le cose rapidamente e devi centrare l'obiettivo e devi farlo bene mi piace creare un po' una linea di continuità tra le interviste che stiamo realizzando con quelli che secondo noi sono le grandi voci del giornalismo attuale e Sandro Piccinini su questo divano ci ha raccontato uno scontro invece generazionale che aveva avuto con un altro grandissimo che non abbiamo ancora citato Nando Martellini quindi mi piace provare a spiegare e farmi aiutare da te le differenze perché lo sia tra radio e telecronaca perché Sandro ha raccontato che era seduto con Massimo Marianella arriva Nando Martellini e gli fa ragazzi ma che fate con tutti questi fogli ci stiamo preparando il calcio internazionale non sappiamo i nomi e Nando gli disse non ci si prepara si va con quel che si sa vero però è diverso raccontare una partita in televisione rispetto alla radio sì è diverso soprattutto da quando cominci da quando inizi da quando ti hanno la possibilità appunto di raccontare una partita alla radio e di andare al microfono e quando sei diciamo nel pieno della tua carriera perché all'inizio insomma Inter Milan si racconta da sola e i calciatori di Inter e Milan si conoscono così come quelli del Real Madrid del Barcellona del Bayern Monaco del Paris Saint Germain del City dello United il problema è quando devi fare parghelia tropea perché perché ha il pallone e sta sempre fuori perché ci sono 22 pippe scatenate che inseguono sta roba e non riescono a controllarla come la potrebbero controllare Messi piuttosto che Brozovic o Totti o che è una cosa quando ci sono degli illustri sconosciuti di categorie inferiori con questo pallone che sta sempre fuori per cui rimessa laterale rimessa con le mani il fallo a terra alla fine qualcosa devi inventare e comunque i calciatori devi sapere chi sono però alla radio vale a maggior ragione il discorso che faceva Nando Martellini perché comunque in televisione lo spettatore vede sa di chi sta parlando il radio ha bisogno invece che glielo racconti tu che glielo dica tu cioè che gli dica tu ripeto dove è il pallone il pallone va seguito non minuto per minuto attimo per attimo io devo capire chi attacca da dove a dove devo capire dove è la palla se al vertice sinistro è l'area di rigore se al vertice opposto se è centralmente posizionata rispetto ai pari della porta avversaria se hai 40 metri ai 25 al limite può andare al tiro in porta si libera di un avversario poi però si coordina per il sinistro poi decide di aprire dal respiro alla manovra immagini e ti disegni qualcosa nella testa e ti fai una fotografia tu che ascolti una volta che ti è stato detto che la tua squadra attacca da sinistra verso destra rispetto al punto di osservazione quindi sei seduto e cominci a pensare se sei dell'Inter per esempio ieri sera che è iniziato il primo tempo con l'Inter che attacca da qua verso qua immagini di stare a San Siro e il radioconista ti ha spiegato che le maglie nera azzurra strisce verticali attaccano da qua verso là da sinistra verso destra sei seduto sulla tua poltrona sei seduto in macchina sei seduto dove accidenti vuoi ma hai già una fotografia in testa l'hai già scattata e questo è importante e poi devi andare non so se mi viene in mente spesso le macchine fotografiche quelle dei professionisti che fanno quelle cose a ripetizione quegli scattare ecco quella roba lì devo scattare tantissime fotografie attimo dopo attimo per far capire a chi mi ha ascoltato dove è la palla questa è è la storia niente di più niente di meno quindi che te scrivi non ha senso se me lo consenti vorrei sfruttare l'epica di quello che stai raccontando e l'attenzione sono convinto che a casa in questo momento è alta per chiudere il capitolo Sandro Ciotti so che ci sei molto legato e studiando ho avuto modo di vedere tanti contenuti di Sandro e capire che il giornalismo il calcio erano una delle cose di Sandro Ciotti quindi inviterei i ragazzi che ci stanno guardando le persone che ci stanno guardando a andare a vedere il profeta del gol quel film su Johan Cruyff con Cruyff che parla in spagnolo ed è doppiato da Ferruccio Amendola una roba incredibile e nel libro di Cucchi Riccardo racconta questo grosso aneddoto che Cruyff disse io lo farò questo film solo se il regista Tarassandro Ciotti il più grande giornalista sportivo che conosco che roba è no però probabilmente un ragazzo di oggi deve capire che nella nostra generazione quando mio papà mi portò da un viaggio in Olanda le scarpe della marca che indossava Cruyff con i tacchetti intercambiabili io ci ho dormito praticamente per un mese abbracciato con le scarpe Puma erano probabilmente sì era una roba che per noi Cruyff finale Barcellona Manchester United è stato olimpico di Roma Riccardo Cucchi in Radio Corona che io ero vicino a lui a fare diciamo la seconda voce devo andare un attimo devo uscire devo andare in bagno un secondo rientro salgo gli scalini e prima di arrivare alla mia postazione c'è la postazione della tv catalana e di fronte a me c'è uno di spalle che non mi fa passare e gli dico scusa questo si gira con una sigaretta pendola tiene la foforera io lo guardo e mi paralizzo era Cruyff e io non so che fare e lui oh c'è la c'è c'è io sì sì però voi non potete capire cosa significhi per uno nato nel 1963 trovarsi di fronte Johan Cruyff cioè era una cosa troppo grande era un personaggio quasi non esiste forse pensavi ma esiste davvero uno e ce l'hai davanti in quel momento mi è venuto in mente Sandro Ciotti e quello che disse Johan Cruyff di Sandro Ciotti lo faccio solo se sarà il più grande giornalista che conosco a dirigere qui l'orchestra non lo so è come la storia di Vito Lugo Morales è una roba che non si racconta tra due secondi tra due secondi ci arriviamo chiudo su Ciotti andatevi a ascoltare Veronica che è una canzone scritta a sei mani da Sandro Ciotti Enzo Iannacci e Dario Fo è una roba ieri l'ho ascoltata con la mia ragazza e lei mi dice veramente questo giornalista sportivo che era la voce dei Looney Tunes di Space Jam per noi la nostra generazione è anche questa roba qua dunque per intervistare Mina ci eravamo messi un vestito da infermiere per l'angolo musicale a cura di Sandro Ciotti l'ospite di questa sera sarà particolarmente gradito agli ascoltatori più giovani si tratta infatti del Red Rock and Roll italiano di Adriano Immolleggiato in una parola di Adriano Cimentano grazie lei è milanese no? si e quanti anni hai? 21 musicista scrittore di canzoni grande suonatore di pianoforte perché prima di quelle partite a carte lui lo trova di seduto al piano che strimpellava eccetera amico dei più grandi artisti in Italia da Martino appunto a Tenco insomma lui credo che fosse lì la notte della tragedia di Luigi Tenco a Sanremo perché lui era inviato a Sanremo e riusciva ad analizzare la musica dal punto di vista tecnico stiamo parlando di un personaggio insomma di uno spessore talmente elevato che poi è complicato quando fanno dei paragoni delle cose a me viene da ridere sinceramente ma non per modestia viene da ridere perché capisco che sono delle cose inavvicinabili sostanzialmente inavvicinabili però è il relato di Victor Hugo Morales tu comunque se non vuoi dirlo tu lo dico io sei l'italiano che più ci si è avvicinato guarda quella cosa lì però quel relato di Victor Hugo Morales perché noi non sappiamo Victor Hugo Morales è uruguayano e quindi dall'altra parte il Rio della Plata che però racconta le gesta di quella di quella nazionale per molti anni soprattutto di quel calciatore secondo me non è un calciatore fa parte di un'altra cosa cioè Diego Maradona per me non è di questo pianeta è una cosa che è venuta non so per quale motivo ora la rappresentazione plastica di Diego Armando Maradona l'ha da Custurizza nel suo film quando fa l'intervista presa in diretta all'interno proprio della pellicola Diego Armando Maradona e lui parla di sé in terza persona Maradona stesso e dice pensate cosa vi siete persi pensate se Maradona fosse stato un atleta che ho deciso molto più di quello che sono quel racconto di quella partita di quel gol di quella giornata siano sia veramente il massimo a cui può aspirare un radioconista se fa questo mestiere perché succedono delle cose che hanno un significato che va molto al di là di quell'angusto confine del rettangolo del rettangolo verde perché voi dovete immaginare che qualche anno prima quindi fine degli anni 70 inizio degli anni 80 per rinvigorire un po' di sentimento nazionale tale general Galtieri che era stato poi messo lì da quello che l'aveva preceduto Videra fondamentalmente dei torturatori dei seviziatori di esseri umani in un regime spietato si era inventato una guerra dice andiamo a riprenderci ciò che il nostro le Malvinas sono delle isole dimenticate a dire dove non c'è veramente niente erano delle colonie che in Gran Bretagna venivano utilizzate per spedirci i delinquenti più veramente non li facevano nemmeno non li condannavano nemmeno a morte li mandavano vai lì a finire i tuoi giorni tanto lì in isola abbattura stanno solo pinguini è un vento pazzesco una temperatura proibitiva 365 giorni l'anno un mare sempre che pare che ti salta addosso è un posto veramente terribile dove non c'è nulla e Galtieri dice vabbè visto che la situazione qua in questo paese è questa adesso andiamoci a prendere ciò che è nostro le Malvinas ovviamente contro la raffa della signora Thatcher questi hanno più o meno un mese di vita e poi vengono spazzati via c'è la canzoncina che è andata molto in voga a Qatar 2022 che racconta si Muchachos che lo spiega certo all'inizio dice in Argentina nella stita era di Diego e Lionel de lo pive dei Malvinas che jamás olvidarem cioè dei ragazzi delle Malvinas che non dimenticheremo mai di coloro che si sacrificarono per una causa sostanzialmente inesistente però cosa deve fare Diego Armando Maradona in quel giorno del quarto di finale in Messico del Mondiale contro l'Inghilterra cioè lui che si era sempre opposto ovviamente a quel regime e non fu il solo e ora bisogna visto che lo pive dei Malvinas che jamás olvidarem visto che comunque il sacrificio di quei ragazzi non lo dimenticheremo mai ma allo stesso modo noi siamo contro il regime che ci ha creato tutte quelle robe negli anni 70 e all'inizio degli anni 80 e desaparecidos quella tragedia immensa la loca del flasso di Macio tutte quelle cose là io però che sono Maradona e che sicuramente non le ho mai mandate a dire mi schiero e sono contro il regime ma sono anche allo stesso momento per quei ragazzi che hanno perso la vita alle Malvinas e sono con i miei col nazionali gli fa il primo gol con la mano e poi fa quella roba da 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 e quello la racconta mi dite con tutto questo che io ho detto adesso con tutto quello che cosa ha a che fare solo con il pallone questa storia niente voi capite che è un romanzo ma che romanzo è è quel signore che sta lì che viene dall'altra parte del rio della plata e che alla fine emette dei suoni come racconta benissimo Federico Buffa quando va a intervistarlo emette dei suoni e con un suono ti disegna e ti fotografa ciò che sta accadendo io se voi chiudete gli occhi e dopo arranca l'aderecia cioè attacca da destra e arriva in aria e comincia a fare ta 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 io me lo immagino che gli sta saltando tutti come birilli ta 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 significa ta 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 sta toccando la palla tocca la bola tocca la veloce ta 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 e poi lui chiede scusa chiede scusa per la poca professionalità chiedo il sorale chiedo il sorale non viene da piangere vi chiedo scusa da dove veniste da dove vieni da che pianeta arrivi come ti può avvenire in mente Barilete Cosmico oh quello è follia ma com'è possibile inventare una cosa simile Barilete Cosmico perché c'è Barilete Cosmico Barilete Cosmico è qualcosa che tu non ti può avvenire in mente come fa a venirti in mente una cosa simile e rimani e io faccio questa finale a Madrid tra la mia squadra la mia seconda squadra il Boca Junior e il River Plate per gli incidenti che c'erano stati ovviamente perdo pure quella tre u perché devo perdere pure quella quindi un'altra ferita terribile però vedo Vitor Hugo Morales in postazione e dico no dai prendo il coraggio a due mani e mi avvicino dico buonasera signore io sono e lui mi guarda ah Francisco come stas io ho un'altra cosa tipo Cruif fa giro un video con lui e l'ho rivisto adesso all'Usa Hill ed ero con l'Elea Dani e ho avuto solo la forza di abbracciarlo mi sono buttato l'ho abbracciato e basta che lui adesso è un pochino più ansia si tiene sempre bene però per ogni volta che lo vedo credo che lui e Sandro siano i più grandi e mai esisti di sua faccio della terra quel relato tuo tipico sbaglio se dico che io da ascoltatore ho l'impressione che tu abbia sempre un ritmo un qualcosa in testa sì in genere un sottofondo quasi in genere è una musica cerco di a seconda di come va la partita a seconda degli interpreti in campo cerco di immaginarmi immaginare un ritmo una musica e cerco di adeguare appunto il racconto della radiocronica a quel ritmo però all'inizio non è stato facile perché molti contestavano questa cosa cioè molti padri nobili della radiocronica mi dicevano tu sei un radiocronista Rai e vieni da quella tradizione vieni da quel solco ed è giusto che tu rimanga all'interno di quei binari non devi dire per quale squadra fai il tifo io ho rischiato e devo dire sono stati molto molto lungimiranti con me sia Riccardo Cucchi che Bruno Gentili perché a un certo momento hanno detto ok vai ti hanno lasciato andare sì perché all'inizio è un mio ex capo capo redattore buonanima Marco Martegani che ok cerchiamo di cambiare un po' io ho sempre vissuto questa radiocronica latinoamericana sudamericana argentina brasiliana insieme come un punto d'arrivo mi sarebbe tanto piaciuto replicarla e le basi sono lì e adesso mi piace tanto mi piace che ma non lo fa veramente non è una roba forzata mi viene così io non riesco a essere freddo su un gol su una parata su una grande azione su un gesto tecnico è qualcosa che mi mi trascina perché sono innamorato di questo gioco qua sono innamorato di sta roba qua vado scarsamente d'accordo con i numeri i numeretti le cose la difesa a tre la linea a quattro cioè so di che si parla ovviamente lo so bene però so anche che sono tutte questioni assolutamente non decisive assolutamente e come ti ho detto prima è molto altro è ben altro quando enrico ameri nell'83 annuncia lo scudetto della roma tu dove sei? sono ingradinato a sud ammarassi con la sciarpa della roma al colpo è la fine la roma è campione d'italia sono le 17.45 conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campione cioè tu non è che sei un semplice tifoso no 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 tifoso di curva è ultras della roma di curva sì sì in quella sopra quello striscio nel lì e non rinno veramente nulla a parte che non ho mai fatto nulla di male ma veramente io credo che prima di parlare di certi fenomeni bisogna conoscerli bisogna starci dentro perché è un microcosmo pazzesco è la curva anche lì impari tante cose anche lì impari a capire di chi ti puoi fidare di chi non ti puoi fidare è una parola che adesso magari ha veramente molti significati però l'identità all'epoca era un fatto importante all'epoca per esempio di politica in curva non si poteva parlare c'era solo ecco perché magari fuori per strada ragazzi che erano di orientamenti politici diametralmente opposti si sarebbero scontrati per usare un eufemismo in curva era come il fiume Giordano era il battesimo cancellava tutti i peccati in curva c'è una c'è un solo credo è solo quello quindi se tu di estrema destra incontri quello di estrema sinistra che conosci e magari se lo incontri per strada va a finire male in curva ti abbracci anche lì Antonello Venditti quando parla di Giulio Cesare di quella canzone di quel liceo al quartiere Trieste dove Nietzsche e Marx si davano la mano e lì succedeva solo però in curva succedeva solo per la Roma ripeto era come il fiume Giordano era come il battesimo lavava tutti i peccati c'era una sola fede solo quei colori e succedeva evidentemente anche dalla parte opposta o in altre curve in giro per l'Italia era vietato veramente vietato alzare pugno fare mani tese era era veramente dicevano subito calcio calcio pallone però la mia più grande soddisfazione professionale è stata vedere sui tabelloni luminosi dello Stadio Olimpico di Roma le immagini con la mia voce della vittoria in Coppa Italia della Lazio e lì ho capito che avevo fatto bene il mio lavoro perché ovviamente non poteva essere una cosa che mi dava però tutti i tifosi mi hanno sempre riconosciuto il fatto che ho gioito ed ho alzato i toni del racconto anche se era la mia squadra a prendere gol perché perché il servizio pubblico è una cosa seria ecco lì finisce il campo e inizia un'altra storia servizio pubblico significa che la tassa di possesso chiamata canone lo pagano tutti la pagano tutti i tifosi della Lazio della Roma del Napoli dell'Inter tu devi essere rispettoso e devi non dico condividere ma devi esaltare le emozioni di un ragazzo di curva e siccome lo sono stato so cosa significa ed è giusto che loro vivano o almeno quelli che hanno la bontà di ascoltare la radio e di ascoltare me ed è giusto che loro vivano quel momento il momento del gol con la giusta esaltazione con l'enfasi che meritano di ascoltare la palla in rete la Lazio in vantaggio ha segnato l'Ulice esattamente al minuto 26 nel corso del secondo tempo cambia il parziale allo stradio olimpico ha segnato l'Ulice ha segnato la Lazio tu sei andato in mare aperto perché hai alzato la posta in palio cioè i tuoi riferimenti erano Nando Martellini che in diretta racconta dopo la morte di Paolo Valenti che ti fa la Fiorentina è il tuo maestro se così possiamo chiamarlo Riccardo Cucchi che aspetta la fine della carriera quindi tu ti sei dovuto permettere di cambiare le regole del gioco e per farlo devi sempre dare qualcosa in più io credo sì non devi sbagliare quella cosa lì non devi sbagliare perché altrimenti perché altrimenti te lo rinfacciano è giustamente siccome poi io faccio fatica quando vengo messo alle strette perché la trasmissione era una trasmissione radiofonica in cui si rievocava appunto lo scometto della Roma e Alfredo Provenzali direta ma chiediamo i nostri adegolisti dove erano quel giorno che dico una balla cioè no Alfredo io ero ingradinata sud nella tua città Genova con la sciarpa della Roma al collo e lì ci fu un attimo di gelo però secondo me dire la verità alla fine sei sempre più credibile guardate non credo a quelli che vi dicono che fanno il tipo per la San Pier Danerese per il parco fondamentalmente ci si avvicina a questa storia perché ah almeno nel mio caso sei un calciatore frustrato cioè tu volevi fare quello ma non è perché non sono andato e mi sono fatto male al ginocchio no non c'erano le possibilità tecniche atletiche per arrivare a livelli infimi ma oltre quelli non si poteva arrivare e come faccio a rimanere in questo mondo o faccio l'arbitro o faccio il giornalista se non hai la passione se non sei tifoso se non ti trema l'anima non va bene quindi tanto vale dire la verità uno dice la verità e va sempre bene Janas Sugarzen non so se l'ho pronunciato bene per gli amici Merlino per gli amici Merlino che cosa è stato per te? chi è stato? è stato un cavallo che peraltro adesso una ragazza una donna che si chiama Sara Forte ha acquistato per pochi soldi perché insomma è molto vecchio però grazie a Merlino anche lei ha vinto tante gare ma a un livello diverso dal mio io lo usavo lo montavo da non pro lei invece da open e ha vinto tante gare in quella stagione questo cavallo che viene chiamato Merlino proprio perché fa vincere le gare di reining a me quindi deve essere proprio un mago era un cavallo il reining è una disciplina western era una disciplina americana lui è un cavallo e io grazie a quel cavallo vinco e ci sono le immagini su youtube ci sono le immagini su youtube della mia gara e il reining è una disciplina è il dressage della monta west è il dressage dei cowboy è una cosa è una diciamo la seconda mia grande malattia mi racconti nel dettaglio il rito con cui ti prepari alla gara insieme a lui o a lei il reining nasce perché il lavoro del cowboy era quello di tenere tra i redini un cavallo che doveva accompagnarti per decine di miglia e soprattutto doveva accompagnare centinaia migliaia di capi di bestiame nelle situazioni più pazzesche quindi con tutti i pericoli del caso con tutte le intemperie con tutti i percorsi scoscesi e quindi è un cavallo che deve stare perfettamente tra i redini sostanzialmente è un cavallo che deve tradurre in azione il tuo pensiero deve essere talmente addestrato il cavallo il quarter horse i cavalli dei cowboy se non essere talmente addestrati da essere perfettamente reining non R.A ma proprio R.E reining tra le redini e questo lavoro questo lavoro è diventato una disciplina quindi gli spin quindi gli slice stop quindi i roll back quindi i cerchi veloci il rallentare senza mai tenere il cavallo in bocca senza mai fargli sentire il morso sempre con la mano sul collo le redini molto lente un pensiero che si trasferisce dal cavaliere dal cowboy al cavallo e il cavallo deve eseguire la manovra e quindi quei minuti prima sono sono pazzeschi perché devi innanzitutto rimetterti in testa imparare il pattern il pattern è un percorso devi fare quelle figure ma con quella sequenza cioè devi cominciare con quelle poi fare il cerchio poi fare lo stop o se no devi cominciare con un'altra ma sono sempre le stesse ma in sequenza diverse però le devi tenere a mente perché se sbagli il percorso quindi il pattern il punteggio è zero e quindi te ne vai e quindi tutto quello per cui ti hai lavorato va a farsi bene dire bruciato in un attimo fai 5 spin invece di 4 cioè fermo sui posteriori gira sugli anteriori devi finire davanti al giudice se ne fai 5 uno in più o uno in meno 3 rispetto a 4 zero finito continui la gara ma sai che è inutile è zero il punteggio quindi sei fuori no score nessun punteggio quindi quei minuti in là sono di un'ansia terribile e tu dici ma perché io adesso mi sono venuto a mettere in questa situazione quando stavo già ho le ansie della Roma le ansie del calcio le ansie di andare a lavorare l'aereo l'accredito la postazione oddio non si vede oddio è rotto l'attrezzo il computer già ci sono queste cose qua in più mi vengo a mettere questa roba e però già la vestizione perché ti vesti da cowboy mia moglie mi prende molto in giro quindi chaps i pantaloni con le frange sopra i jeans il cappello la camigli speroni devi salire a cavallo devi cominciare a stabilire una connessione con lui e Merlino è stato il cavallo che più mi ha fatto vincere questo senso di condivisione di connessione se vogliamo di famiglia lo riporti anche nella tua famiglia reale in tuoi effetti mi hanno detto in modo molto genuino e positivo che la tua casa è una sorta di comune in cui condividete tanto non solo con i tuoi ma con i tuoi nipoti sì 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 i miei nipoti io i figli di mia sorella che vivono sotto di me sono come due figli per me sostanzialmente sono i miei due figli maschi le mie figlie ovviamente che sono una ne ha tredici di anni l'altra dieci e mia moglie che è una donna di una ospitalità unica riesce a far sentire a proprio agio tutti e la mia casa che è piccola è comunque sempre piena di gente e chiunque arriva si siede mangia chiacchiera io non ho problemi a dire a una certa ora vabbè io vado a letto anche con ospiti me ne vado a letto cioè è una situazione molto easy molto aperta che mi ricorda però guarda caso ciò che accadeva e che mi raccontava mio padre a Tropea proprio nelle case nelle case grandi che erano sempre aperte anche in un posto allora sperduto della Calabria negli anni 50 40 nel dopoguerra c'era sempre una casa in cui si andava a ballare in cui si andava a socializzare con altre persone c'era sempre da scherzare c'era sempre da vivere anche nelle notti d'inverno e le case erano sempre aperte e questa è una caratteristica del mio paese di Tropea che mi piace moltissimo avere degli amici avere Domenico avere Damiano avere Franco che con i quali io condivido nel senso che io so che comunque vado a casa loro cioè io entro dentro casa e so che mi siedo e mangio il nostro comune amico Damiano spesso invita il padrone di casa a casa sua cioè a casa del padrone dice guarda puoi venire puoi venire dopo a casa mia sì perché io tanto ho già finito tutto quello che c'è da mangiare perché uno si siede capito ed è così e questa è una cosa che mi piace da morire e voglio voglio che le mie figlie che i miei nipoti siano così cioè che le case siano aperte che si aprano le porte c'è una vecchia commedia musicale che in Italia di Arine Giovannini è molto famosa si chiama aggiungi un posto a tavola certo che parla di una cosa più grande evidentemente però nella canzone diciamo nella colonna sonora nel pezzo musicale più importante della commedia c'è una frase la porta è sempre aperta la luce è sempre accesa entra nella mia casa è aperta puoi venire parlami discutiamo diciamo quello che ci pare litighiamo però la porta è sempre aperta e la luce è sempre accesa stiamo finendo Francesco tranquillo no no è da più di un'ora che parliamo di quello che ti ha dato il tuo lavoro ma mi vuoi dire cosa ti ha tolto mi ha tolto lo stare vicino alle mie figlie nel momento in cui stanno crescendo io ho avuto la fortuna di sposare una donna che veramente mi ha secondato in tutto nelle mie follie e nel mio lavoro e che quindi sostanzialmente tiene sulle sue spalle il carico di questa di questa conduzione familiare e sì mi ha tolto mi sta togliendo la crescita delle mie figlie cerco di stare il più vicino possibile però mi rendo conto che è complicato anche dal punto di vista proprio egoistico perché magari sei sempre fuori magari lotti sempre con il tempo sei sempre 2-0 con la morte sotto i tuoi gol e quindi devi sempre correre per riuscire a pareggiare e quando torni a casa dici adesso mi metto lì davanti a sto coso mi accendo la radio mi reggo il libro sto a letto o se no vado a montare il carro o se no vado a pescare a tropea ovviamente con Domenico con Franco con mia moglie mi telefono non hai mal di pieno inverno sei in mezzo al mare come mai non hai mal di schia non sei non hai mal di no hai ragione i capelli sono lunghi proprio perché io devo conservare la possibilità di andarmi a tagliare a tropea perché ovviamente come tutti sanno a Roma non ci sono barbieri come dice mia moglie e quindi io devo scendere in Calabria a tagliare i capelli da libero perché lo devo fare perché ci andava mio padre ci andavano i fratelli mio padre io devo andare lì insomma non c'è verso devo andare in quella piazza che è una commedia francese specialmente in quella bottega dove succede di tutto e quindi devo essere aggiornato su ciò che accade al mio paese e quindi devo andarci e adesso i capelli lunghi proprio per strategia infatti mia moglie mi ha sgamato e mi ha detto è inutile che tanto lo so che stai per dirmi che devo scendere e guarda caso sarà un periodo di alta pressione traduco cioè quando c'è mare piatto guarda caso guarda caso perché credo che tu dovrai andare a pescare perché ci sono le seppie ci sono i calamari ci sono i denti ci sono i cerni i tonni a secondo delle stagioni ecco io vado con la stagione viaggio con la pesca e mia moglie ha capito tutto questo lo ha sopportato soprattutto lo ha generosamente tollerato e a lei andrà la mia eterna gratitudine nel pezzo di saluto a Riccardo Cucchi tu dici tra le tante che impari da un capo vero ce n'è soprattutto una non siamo qui per creare problemi siamo qui per risolverli da quel momento la vita cosa ti ha insegnato di nuovo? da quel momento ho capito la grande responsabilità che si ha quando ci si mette davanti a un microfono ripeto parlare a tante persone è una responsabilità enorme devi renderti conto che non puoi sbagliare che ogni parola deve essere pesata anche se ti esce così in maniera abbastanza fluida dalla testa e quindi dalla gola e dalle corde vocali è giusto che debba essere pesata Sandro Ciotti ci diceva sempre portate con voi uno zaino e riempitelo di parole perché avrete bisogno di quelle parole perché vi aiutino perché vi tirano fuori d'impaccio dalle situazioni più pericolose più scivolose quindi attenzione a come si parla attenzione a quello che si dice il senso della responsabilità nel lavoro con un microfono davanti alla bocca non siamo qui per creare i problemi ma siamo qua per risolverli a me non frega nulla anzi all'ascoltatore non frega nulla che tu arrivi ricordo quella giornata con un po' di difficoltà perché poi fu la notte che morì mio padre ma era io ero in Brasile la Confederation Cup e c'è un amichevole sul campo del Vasco da Gama col Vasco da Gama ora lo stadio del Vasco da Gama è sistemato a metà strada tra tre favelas tra le più popolose tra queste anche la Rosigna di Rio de Janeiro e non è semplicissimo arrivarci anche lì quando si parla di traffico loro usano un termine che secondo me suona assai bene si chiama oenga haffamento quando ti imbottigli la caraffa insomma c'è la gente scende va al mare tanto qui per 6-7 ore non ci muoviamo più quindi è inutile che stiamo a perdere te e quindi già arrivarci col pulmo non fu semplice arrivammo Riccardo salimmo con Riccardo in postazione cronaca ed era sostanzialmente un ballatoio dove c'erano appesi i calzettoni dei giocatori a scolare dopo la ballatrice ad asciugare del Vasco da Gama c'erano dei fili che usciano fuori e Riccardo cominciò ad entrare io cercavo di calmarlo perché poi come si fa poi io chiamavo un responsabile brasiliano in tutta questa questione e c'era una signorina che mi diceva all'altra parte del telefono agora scega ora agora scega a Rio de Janeiro è una cosa ora viene prima o poi sì una cosa molto diciamo così e però alla fine io non so come succede grazie questo veramente al personale della Raya alle persone che lavorano che vengono sempre molto poco citate molto poco valutate ma sono ho stretto rapporti con i miei colleghi del reparto tecnico che sono veramente indissolubili perché sono delle persone meravigliose che riescono a capire esattamente dove ti trovi come ti trovi in quel momento di cosa hai la necessità e risolvono le maniere più rocambolesche più tecniche possibili delle questioni dei problemi che ti sembrano assolutamente irrisolvibili e anche quella volta si andò in onda si andò in onda io ricordo che proprio i sordini dicendo ecco avete in mente in Europa le flash interview review recess restricted ecco dimenticatevi tutto lì entravano tutti c'erano donne uomini personaggi dal sesso incerto entrano tutti in campo cioè peccato che però lì c'era il pallone perché vicino a quello stadio c'era un piccolo campo sterrato che è di proprietà del cruzeiro dove aveva mosso i primi passi dittare ronaldo nasario lima c'era il pallone non c'erano tutte queste sovrastrutture cioè c'era un ragazzino che tirava calci alla palla e io credo sia ancora quella roba lì che ci tiene attaccati no è un ragazzino che tira prende a calci un pallone e da lì poi parte tutta quella storia di cui abbiamo parlato grazie davvero grazie a te grazie